Si intitola Vera e Falsa Teologia, l'ultimo libro in ordine cronologico scritto da Monsignor Antonio Livi, editora la casa editrice Leonardo da Vinci. Monsignore, qual è la vera e qual è la falsa teologia? Bisogna intendersi sul termine che è ambiguo da tanto tempo nella cultura occidentale, perché si applica sia alla metafisica di Aristotele, che culmina proprio nel discorso su Dio come prima causa dell'universo, e quella appunto è teologia. E questo discorso razionale su Dio a partire dalle creature è stato continuato anche dalla filosofia cristiana, in particolare da Tommaso, da Scoto e poi nell'epoca moderna da Rosmini, e si chiama teologia naturale o teologia filosofica. Ma il cristianesimo ha comportato anche un altro tipo di teologia, che è la teologia sacra o teologia rivelata, dove l'oggetto non è tanto quello che la ragione possa sapere di Dio con le proprie risorse, quanto piuttosto quello che Dio ha detto di se stesso in Gesù Cristo, dopo la rivelazione dell'Antico Testamento tramite i profeti. Questo che Dio ha detto di se stesso in Gesù Cristo è custodito dalla Chiesa in una serie di verità formalizzate che tecnicamente si chiamano il dogma. È enunciato dal credo, è enunciato dai concili, è enunciato da interventi diretti del Papa. L'ultimo, per esempio, è stato nel 1950 il dogma dell'assunzione di Maria in cielo, in corpo e anima. Allora, la teologia in rapporto al dogma è una scienza, una vera e propria scienza, perché usa la ragione in maniera rigorosa, una scienza che però intende illustrare, spiegare il dogma, non metterlo in dubbio o cercarne le motivazioni, che quelle sono un altro discorso, un discorso filosofico, che può fare chi al dogma non crede. Pertanto, una volta chiarito questo, la vera teologia per i cristiani è la scienza della fede come interpretazione del dogma. E allora, quando una teologia che si presenta come tale non è interpretazione del dogma, ma una pretesa riformulazione del dogma o addirittura una rivoluzione rispetto al contenuto del dogma, siamo di fronte a un equivoco lessicale, che però è anche un equivoco dal punto di vista logico. Si presenta una teologia che dovrebbe essere interpretazione del dogma, si presenta come una confutazione del dogma. Come si cala tutto questo discorso nel Concilio Vaticano II? La vicenda del Concilio Vaticano II è appunto emblematica di come nella cultura occidentale ci sia stata una confusione tra teologia in senso proprio, scienza della fede, interpretazione del dogma, e teologia come tentativo di sostituire il Magistero, il Concilio stesso, ma anche i precedenti concili e il Magistero dei Papi, con nuove teorie, con nuove congetture sulla rivelazione, o addirittura ipotesi di svuotamento della rivelazione, del suo contenuto soprannaturale, per ridurla a una esperienza umana universale. Il detto filosofia, ancilla, teologie, secondo lei vale ancora? Beh, l'ha detto il Papa Giovanni Paolo II nella Fides etteratio, che vale, vale perché significa che siccome il dogma ha un contenuto razionale, comprensibile razionalmente e proveniente dalla ragione di Dio, dall'intelletto divino, è logico che non possono esserci riflessioni sulla fede che non prevedano la valorizzazione delle premesse razionali della fede stessa. E questa è una funzione che può svolgere la filosofia, autonomamente, senza dipendere dalla fede, ma svolgendo l'analisi logica delle premesse razionali della fede stessa. Lei prima ha spiegato quale sia la vera teologia, e pur oggi si definiscono teologi anche persone che praticano e professano l'ateismo, che criticano la Chiesa, che non credono nell'amore di Dio. Perché? Perché c'è appunto una confusione culturale per cui si mettono sullo stesso piano i pronunciamenti del Magistero, lo stesso Concilio Vaticano II, le teorie dei teologi cattolici, le teorie dei teologi protestanti, le teorie dei filosofi della religione musulmana, o induista o buddista, e addirittura gli atei, tutto sullo stesso piano, rimandando tutto il discorso a una tematica vagamente religiosa, dove a volte non c'è nemmeno Dio, come non c'è nell'induismo, nel buddismo, ma c'è semplicemente il sacro, che è una parola più ambigua della quale non ce ne sono altre. Il sacro. Perché invece ognuno è libero di non avere fede e di non voler sapere le ragioni della fede. L'importante è presentarsi nell'agorà culturale con le credenziali giuste. Se uno è ateo deve dire faccio un discorso contro la fede cristiana, contro la teologia naturale. Non può presentarsi come teologo, non ha nessun senso.